bentornati ragazzoli con vostro amice su final fantasy 15 sarebbe ora di andare a nanna ma provo a resistere un altro po quindi sono arrivato dove ci eravamo lasciati l'ultima volta andiamo avanti dobbiamo entrare in questa foresta quindi sarà questa ok io 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 Siamo già venuti qui Per me due ore e mezza fa circa Per voi non so Saranno passati un paio di giorni Dovrebbe essere un'ambientazione abbastanza figa Adesso vediamo un po' Proviamo a tagliare un po' la strada qua Se ce la facciamo Allora ci va Ok Oh the fuck Mandracora livello 32 Iniziamo bene No Perché altro sarebbe meglio controllare A parte che è arancione Quindi in teoria sono deboli Alle spade Qui cosa abbiamo Che la gigante Mi ispira un sacco Sta ambientazione Mi pare che sia troppo scuro Che è un'altra mandragora Che è un'altra mandragora Vediamo un po' la debolezza Ma credo di aver visto che erano deboli nelle spade Difatti Non dietro Perfetto L'altra lì Troppo scuro per i miei gusti E' un'altra mandragora Procedendo a vedere se è un'altra mandragora Che cosa è una mandragora Che cosa è una mandragora Che cosa è una mandragora Vespa soldato Debole a lancia Direi di un po' intorno Ok Perfetto Caduta Ok 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 Perfetto Non ci sto capendo molto Credo stia succedendo Seriamente Qua voglio venire giù Facciamolo venire giù Dai però Non bloccarmela Nice Doramu come fai A venire Prenderci lì Con la tua manona giganteria Non ho mica capito Neancora sto fozzo Dove esce ogni tanto così Grazie comunque Sempre molto gentile Possiamo continuare No Guarda Ci hai rovinato Tutta la foresta Bella ambientazione Che c'era Qui dentro Riposiamoci No Perché dovremmo riposarci Vabbè Forse per il boss Dai Mangiamo qualcosa Potremmo vedere un po' La mappa Forse c'è una bifurcazione Qua non so Non sembra No Oh finalmente Lingotti di platino Dopo le battaglie Chissà quando si vendono Quelli Cosa Fatto un gemito E basta Ok Teniamo questa Sì Sappiamo Se Tegli Cioè Per dire Ci spero Tutta quella roba lì No No per me Devo non aver tagliato qualcosa Cioè I hope Basta Allora Andiamo avanti Di qua Ora quante cose Venga Signor Zeus Anche qui Dai ci sarebbe Sarebbe utile Qua no Eh la 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 Con il moguri Dai Fighissimo Mi spieghi cosa sta succedendo Ah perché sono Vabbè Lasciarela in confusione Tranquilli proprio Ok Fai una eradicazione Eclisse What? C'è un'eclisse Fighissimo Ok E morì ma dove? dai 5 dai 5 ok allora basta questi versi cosa c'è? non c'è niente oh Inis Inis basta stai zitto no sto non va grazie Dug delta buone vediamo un po' vediamo se è arrivato il caso di cambiare sta lancia fa 195 in confronto alle dughe 153 che riducono la difesa però dai vabbè teniamoci questi un po' più che altro non mi piace perché che combo fai sempre quelle ok andiamo avanti qui abbiamo un granelisir ok per continuare dove si va si va di qua no ah di qua sopra in teoria ci sto guardando la mappa non capisco bene come si possa arrivare lì vedete il senso di sta cosa ok da di qua perfetto è vero comunque dove sono finiti loro ok buongiorno ecco ecco va bene abbiamo ah aspetta un po' c'è un mausoleo la cazzarola perfetto eh dovrebbe essere abbastanza easy dai abbiamo già sconfitto un po' di volte ma il problema è sempre di sta spadona che è lenta a non riesco a parlare rimuovere le azioni nel senso se voi colpite dopo prima che possiate scrivere deve passare un bel po' di train oh mi fai giocare un po' per piacere senza girarti ogni volta grazie ok qua oh finalmente meccalo perfetto finiamolo con una donata vorrebbe morire mi spieghi che senso ha ogni volta che fai così stai non ti ve la faccio più fare sta azione boh vediamo se riusciamo a finirlo con le crisi ma non credo perché neanche prima andata tutto sto bene che è morto non ti senti è morto Non saprei Cos'è? L'unica cosa che mi viene in mente Potrebbe essere un bastone da mago Ma che non sia una lancia un po' strana Scetro del Benedetto Eredità del re più devoto ai sei Che legò indissolubilmente la casata di Lussis Alla stirpe delle sciamane Permette di attaccare con lame di luce Attraverso il campo di battaglia con la rapidità di un lampo Ok, proveremo anche questo E ci mette 150 e il potere magico Ok, questa è una animazione Ma mi sa che lancia tipo un lampo alla fine Tipo un tridente, vedete Ok Allora, torniamo al punto di ingresso Torniamo alla regalia E andiamo avanti con la missione principale Vediamo se poi possiamo tornare a fare quelle secondarie Non so Perché Vabbè che tanto ormai dormirò due ore Però Eh, vabbè Ho troppa voglia di continuare Cioè, a sto punto Io continuerei fino ad arrivare lì Almeno così dopo ci sbloccano tante cose nuove Da fare secondarie Cosa dobbiamo fare qua adesso? Cosa dobbiamo fare qua? Parare con queste? Ok, abbiamo fatto la sosta Cioè, possiamo continuare Perché ogni volta Si novitò che finire l'episodio Senza avere finito la storia principale In capitolo, insomma Cosa dobbiamo fare Un ponte Un ponte Yeah No, ti prego No Cosa devo fare? Sta ragazzola Vicino al molo Vicino al molo Ma c'è molo Vicino al coso dove si pesca là Andiamo, andiamo Un ponte Un ponte Un ponte Un'altra sosta Un'altra sosta No, siamo arrivati a capoca Ok, ok, ok Perfetto Ora Andiamo su Oh, che cazzo Oh, che cazzo ci fa Cindy qua Buongiorno signorina Cosa Che cazzo ci dice Oh, che cazzo ci dice Eh, petta che adesso ci provano anche con lei Vai, di qualcosa Pronto Vi separate dei Sì Che cazzo ci dice Se sarà della barca che si deve portare ad altissima, però là che era rotta tempo fa, no? Siamo andati in modo... Ah, addirittura il Mitri. Sì, però adesso non riesco a finire l'episodio così, no? Ok, ero già andato lì e abbiamo trovato l'ampolla magica che vi ho mostrato, quindi adesso è abitata da loro. Scusate madonna, non ce la faccio più questa voce. Ok. Quindie? Vabbè, salutiamolo cordialmente. Va bene, Gladio. Mi dispiace un sacco, però è il mio DPS preferito, nel senso che è lui quello che è stato riafformato un bel po' di punti di abilità per lui. Lo salviamo questa, che è bello. Sembrano allucinati tutti e tre. Lo yacht è in pessime condizioni e per ripararlo è necessario un materiale estremamente raro, il mitri. Le informazioni su questo minerale sono poche e frammentari. Ma alcuni indizi spingono nocti sui amici inoltrarsi tra antiche rovine sotto giurisdizioni. E insomma facciamo anche capitolo 7 senza facecam. Cioè lo so che ci sono alcuni di voi che ci tengono veramente. Però mi importa di più continuare ad avere una pubblicazione di episodi abbastanza frequente piuttosto di adesso mettermi qua a interrompere. perché da sto punto non dormo proprio stanotte. Andiamo avanti. Ma insomma sembra contenta dalla risposta che gli abbiamo dato. Come a riuscire? E' anche il nostro concetto. E' un'altra parte di questa vicenda. E' un altro cibo che ci sono stati. E' un'altra parte di questa vicenda. E' un'altra parte di questo. E' un'altra parte di qui, per la vicenda. E' un'altra parte di questa vicenda. E quindi qua Ah c'è ci aprono la porta Aspetta dove stiamo andando Qua c'è qualcosa che non quadra Ah lui è tranquillo Di fatto il buono lì più di altri Mi preoccupa un po' Cosa? Cosa ha pronto? Ok Sì ma siamo in tre Dove sta andando per raggiungere il posto? Non bisogna andare dall'altra parte Ah qua qua ok Oltretutto adesso livelliamo senza gladio Che a me sta cosa qua proprio non piace neanche un po' Allora Ah vedete un po' Dove siamo adesso Ok possiamo entrare anche qua stavolta Ok Quindi andiamo a fare sta foto Dunque qua la vegetazione è un po' diversa Cioè non potete dirmi che è la stessa cosa Vabbè che siamo sempre nella palude di Duskai no? Però qua Cioè si vede che è un po' diversa È più da giungla di che ne è foresta normale Guardate che roba E vorremmo esplorare anche questa parte Tanto sicuramente avremo delle missioni secondarie da fare anche qua Cioè io non credo che resteremo senza gladio più di una parte Cioè nel senso un capitolo massimo forse Perché al fine sarebbe un po' uno squilibrio in confronto a tutto il party Che lui non prende esperienza Invece gli altri si Quindi andiamo a fare un Vediamo un po' Questa qui Sandwich del ghiottone E diamo questa che magari dovremmo colore un po' con il ciocco dopo Ieri sera Ignis ha preparato il tuo piatto preferito La gustosa scorpacciata ti fornisce un entusiasmo che contagiano i tuoi amici Favorendo la preparazione delle tecniche ausiliari Ok Ok Adesso cominciano a rompere le palle Prima ci fanno passare Voglio gladio qui Vediamo un po' Sembra abbastanza easy Senza gladio non possiamo permetterci tanto Perfetto Perfetto Andiamo Andiamo Allora Allora sentiamo questa cosa dice L'estalum Quindi si dirà così Ok quindi non l'estalum Ma l'estalum Andiamo avanti Qua diciamo che anche senza prendere il ciocco dopo va bene lo stesso L'abbiamo portato a livello 10 Così guardiamo un po' meglio la L'ambientazione che mi ispira un sacco questa Credo che sarà anche l'ultima A meno che altissa non sia da qualche parte Non so dove Ah questa qua è altissa no? No insomnia Non so Vabbè Continuiamo Qua abbiamo un deposito minerario Ok Chi c'è? Che cazzo? Che doccini però che sono Beh dai fa male anche abbastanza Il signorino pronto va La coccatrice Difatti mi sembrava strano Che non fosse lei Si vede che i piccolini hanno un nome diverso E lei la mamma Ah Con la coda Ma finisci di targettarmi Lascia un minuto di spazio Ok Perfetto Andiamo con Eh volevo fargli Il grilletto facile Ok Colpisci lei E mi sa che l'ha mancata Vabbè Si è un po' incastrata Perfetto Nice Quasi morta Abbiamo rotto la difesa Ed è andata Continuiamo Oh perfetto Risotto l'uspante di Clayn Dai che figata Guardate che bello Sto posto Dai non devi fare parkour Prendi su sto coso Andiamo Questo Ok niente Guardate che figata Qui Cioè vi giuro Mi piace un saco Sto posto Si lo so Si è capito L'ho già detto un po' di volte Ok Ha svellato il tutto Ci dica signor Non mi ricordo più il nome Splendido Lui è molto Doppio faccia No? Ci manca il pezzo forte Entretutto Sì 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 Posso andare a prendere queste velocità Velocità proprio Qui Ok Eh beh Via Cosa ci vuole dare una mano Per Per prendere i mitri Che tipo alla fine ce lo vuole inculare Eh lo sappiamo Nelle nostre Vero però intanto Vuoi la mano arrivare fino a Guardate chi c'è la tettona Buongiorno La scorta Chi ci fa di scorta Lei Sì Che lo sappiamo Ok Qui c'è un armaiolo Spada glaciale Ce abbiamo già una Dissettrice Asta glaciale Assassine Ribelle Scudo tornante ardente E Potenza magica Vabbè prendiamolo lo stesso Tanto per mille E prendiamoci un'altra Di queste spade Di queste spade La Questo qua Avendo oggetti Vediamo se ha qualcosa Direi di comprare un po' di gran pozioni Che possono esserci utili E poi E poi Coda di finirci Ne abbiamo un bel po' Perfetto Dai che ci fa lei la scorta Salve Sì sicuramente Non reagisco Cosa faccio Non reagisco Di quello che vuoi Sei simpatica Comunque Molto simpatica Beh Metti che non abbia niente contro di noi Forse non si sa Però dato che adesso È stata pagata Per farci la scorta Allora Potrete contarsi di lei In combattimento Quindi non Gladio Ma lei Ma la sua priorità È la missione in corso Quindi nel frattempo Non potrete usare la regalia Cavalcare sui ciocchi Blablabla Ok Che bello è sto posto Allora vediamo un po' Cosa ci dice Ah niente Se noi facciamo equipaggiamento Andiamo da lei Fa dominio aereo Che Spicca un salto per piombare su un nemico Con forza schiacciante Mi ricorda tanto tipo I dragoni Delle classi Sugli altri Final Fantasy Con la lancia Vedete E poi ha un Non si può vedere Non si può vedere Non si può vedere Non si può vedere Ok Difatti C'è Corazza del dragone Vabbè Eh quindi No non dirmi Dobbiamo aspettare Proprio così Aspettiamo Ok Vediamo un po' Vabbè Quindi Non so Aspettiamo C'è un modo Non vuoi Ah mio Dio C'è un modo Oh J'ai un modo Non lo so 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 Che